Oh, vado, mi hai fatto spaventare. No, scusa, mi stavo cercando l'acqua. Poi apposta, tieni, tieni. Salvo? Eh, pure per voi l'acqua. Certo, tuo figlio c'ha una bella fantasia, eh? Perché? Le pistole, i carabinieri. Tu che sei finito in prigione. Quindi adesso c'ho un criminale in cucina. Sì, il mutante. Però tu un po' la facciata cattiva ce l'hai. Dici. 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 Dici.